Benvenuti a Note di stile, tradurre la moda e il lusso senza inciampare. La puntata di oggi è Il mondo in tasca parte 2. Rieccoci qui, trepidanti, per la seconda puntata delle note di stile dedicata alle tasche. Se vi siete persi la prima, cercatela sul canale YouTube o sulla pagina Facebook di STL Formazione. Vi ricordo che il nostro obiettivo non è definire con precisione sartoriale le varie tasche, d'altronde non siamo dei sarti, ma riuscire a tradurle senza inciampare. Oggi parliamo di tasche applicate o a toppa, patch pockets. Un ripassino? Sono funzionali e applicate all'esterno del capo, a differenza di quelle tagliate che, come suggerisce il nome, vengono realizzate tagliando il tessuto. Non le analizzeremo tutte, ma parleremo di quelle in cui è più facile imbattersi. Pronti? Via! Le patch pockets possono essere flat, flap. In questo caso le tradurremmo come tasche applicate con patta, pattina o aletta. Proprio come per le controparti tagliate, la pattina può essere anche buttoned, con bottone, oppure top stitched, con impunture. Se vi ritrovate davanti a una gusseted pocket, ovvero una tasca a soffietto o a fisarmonica, si tratta sempre di una tasca a toppa costituita da una parte interna e da una esterna. Ne esistono diversi tipi a seconda delle dimensioni e delle forme. Nel caso di dubbi, come sempre, è consigliabile attenersi al glossario oppure scegliere il termine più generico, soffietto per l'appunto. Le tasche a soffietto, per vostra informazione, sono note anche come expandable pockets, anche se non è proprio così frequente. Le cargo pockets sono ampie tasche applicate, spesso ma non sempre, contraddistinte da una parte laterale a soffietto, pattina e bottone. Sono tipiche dell'abbigliamento da lavoro e le vediamo sempre tornare ciclicamente a ornare pantaloni, giacche e gilet, per lo più di gusto casual. In italiano le rendiamo con tasche cargo o in alcuni casi tasche utility. A proposito di capi ispirati all'abbigliamento da lavoro, segnaliamo le tool pockets, tasche molto ampie, originariamente pensate per contenere viti, chiavi inglesi, martelli e chi più ne ha più ne metta, che in italiano sono spesso tradotte come tasche a borsa o semplicemente tasche ampie. Dulcis in fundo, le tasche a marsupio, in inglese kangaroo pockets e più raramente muff pockets o hoodie pockets. Parliamo di quelle ampie tasche in stile casual applicate solitamente sul davanti di felpe e giacche, caratterizzate da due aperture laterali per inserire entrambe le mani. So già che avrò deluso qualcuno con le mie omissioni, quindi faccio mea culpa, ma lo spazio è poco e diciamocelo non ho la verità in tasca. Niente paura però, lasciate un commento per saperne di più, per suggerire nuovi traducenti o per proporre nuovi argomenti per le nostre e soprattutto vostre note di stile. Io sono Eugenia e ci rivediamo tra due settimane con una nuova puntata.